Buon pomeriggio alla redazione di Florence Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A1 si registrano code di 6 km per traffico congestionato in direzione Bologna tra gli svincoli di Incisa Reggello e Firenze Sud. Ralentamenti sempre verso nord tra Valdarno e Incisa Reggello. In FIPILI provenendo da Firenze coda alla Stassigna per viabilità esterna che non riceve. In direzione Firenze rallentamenti tra Ponte della Ovest e Ponte della Este. Si registra inoltre traffico rallentato per materiali dispersi tra Santa Croce su Larno e Montopoli in direzione di Vorno. A Firenze in via del Leone per un cantiere d'Ile è scattata la chiusura del tratto Piazza Tasso via dell'Orto fino alle ore 19 di oggi e fino al 24 ottobre saranno in vigore di vieti di sosta indicati sul posto. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altri informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie!